allora dicevo come si crea la superficie una volta importato il dvg io vengo qui dico inserisci punto vedi qui ci sono le quote quindi per esempio volendo inserire questo punto 632 80 scrivo qua 632 e 80 e vado a cliccare questo quindi devo fare questa operazione per ogni punto vado qua 619 20 e clicco con e così via vado avanti quando ho finito chiudo e lui mi genera automaticamente la superficie che è questa con i punti già in quota che adesso io questo profilo ce l'ho ma devi dirmi poi le quote a cui portare questi punti che perché chiaramente lui ha bisogno di una quota cioè se io vado qui sopra vedi sì praticamente diciamo 611 dovrebbe essere questa la quota 611 diciamo simuliamo non è un problema noi vediamo qua diciamo che voglio fare una piattaforma questa volta posso prendere questo strumento che mi dà la possibilità di selezionare linee vedi una e due che riguarda selezionare poi proseguo qua vado a selezionare 1 e 2 e si sono laterali sto facendo 1 e 2 andiamo più avanti 1 e 2 1 e 2 sì perché seleziono le linee che c'è già vedi 1 e 2 1 e 2 1 e 2 adesso sto registrando non posso parlare poi durante la quando stop ricordatevi devo dire una cosa che comunque va chiusa in questa maniera sì non è un problema quando la linea hanno detto la quota rispetta piano terra beh la parte iniziale in sterro poi diventa qui meseri poi alla fine riporta rispondate che avevo lasciato l'orizzontale stoppiamo così vi metti tenete questo fatto rispetta Nazi rispetta ja insieme devi